Il Messina di Karel Zeman ospita il Biancavilla al Franco Scoglio in cerca di conferme dopo il successo di Corigliano. Arbitrerà Marco Russo di Torre Annunziata, assistito da Michele Rispoli di Locri e Mattia Roperto di La Mezzia Terme. Il football club Messina, che in settimana ha depositato un assegno circolare per la gestione dello Stadio Celeste dopo il botte risposta con il sindaco De Luca, rende visita al Troina. Fischia Daniele Giuseppe Cannata di Faenza, coadiuvato da Michele Piatti di Como e Maratti Vanavic Fiore di Genova. In eccellenza il Città di Sant'Egata affronterà in trasferta la capolista Ragusa. Il Milazzo 1937 ospita invece il Palazzolo sognando l'aggancio. In promozione nel girone C la SS Milazzo gioca in casa del Baldinizi. Nel girone B la nuova capolista Egea 1946 giocherà agli H di Piraino contro il Due Torri in una sfida tra nobili decatute. L'Acquedolci ospita la Torre Novese con la speranza di ritrovare alla testa della classifica impegno in casa del fanalino di coda stefanese per la Sant'Angiolese terza forza del campionato. La nuova rinascita sarà impegnata in casa del Profalcone, il gioioso a Gangi, il Rocca di Caprileone a Sinagra. Completano il quadro Acquedolcese-Castelluccese e Castelbuono-Merì.